Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video dove parlerò di questo argomento che sta un po' girando su tutto il web e ci tenevo anche a dire la mia. Dunque Benadia è in procinto di partire dalla Juventus e al suo posto sembrerebbe probabile l'arrivo di Martin Caceres. E su questo punto volevamo parlare. Chiaramente il titolo riguarda principalmente Caceres, però il discorso poi sarà più ampio. Nel senso che in questo video cerco di capire anche i vari profili e il ragionamento che fa la Juventus anche. Allora, intanto Benadia, il mal di pancia secondo me, lo comincia ad avere quando sa che torna Bonucci. Bonucci è un giocatore sicuramente da sponsor, comunque un giocatore conosciuto a livello internazionale, eccetera eccetera eccetera. Chiaramente la Juve l'ha voluto riprendere dal Milan e Benadia sapeva che probabilmente il posto poteva perderlo. Anche perché sono giocatori totalmente diversi. Io credo che come marcatore Benadia sia superiore a Bonucci, ma credo che lo credano in tutti, tutti, nel senso che credo che si sa che Benadia sia superiore nella marcatura rispetto a Leonardo Bonucci. Però è anche vero che nel calcio di oggi probabilmente serve di più un regista difensivo piuttosto che due marcatori puri. Quindi serve di più avere un regista e un marcatore piuttosto che avere due marcatori puri. Io credo che Benadia sia un lusso per la Juve, ma come credo che sia un lusso per molte squadre, perché è un ragazzo sicuramente validissimo come difensore. Però è anche vero che, come ho già detto prima, nel calcio di oggi il regista difensivo serve tantissimo. Infatti le grandi squadre, alla fine, quasi tutte hanno giocatori di questo livello qua, che magari sono un pochino più fragili dietro, ma che comunque ti aiutano a creare l'azione offensiva. E Bonucci credo che sia il migliore al mondo in questo, cioè come impostazione. Detto ciò, Benadia vuole andare, quindi la Juve a quel punto lì lo compinterà e probabilmente andrà in quella squadra araba che non mi ricordo neanche come si chiama, perché sinceramente non per cattiveria, ma perché non conosco il campionato Catariota. E dunque andrà là e la Juve giustamente si è trovata spiazzata. Probabilmente la Juve pensava, era convinta di riuscire a gestire la situazione Benadia fino a giugno e poi magari dagli il ben servito, comunque aiutarlo a trovare una squadra. Questa sua volontà clamorosa di andare via subito, unita a rifiuti nell'entrare in campo in altre partite, una su tutte con l'Atalanta, sicuramente ha infastidito molto la Juve che se ne vuole liberare il prima possibile. Il problema è che il mercato non offre grandi pezzi pregiati in questo momento da andare a prendere. Allora, le soluzioni sono due. O vado a prendere un giovane e lo faccio fare esperienza sperando che cresca, oppure vado sullo stato sicuro. Ora, io credo che il giovane a giugno va preso, anche perché dovrei sostituire Barzagli, quindi io non lo so, un DeLite a giugno, anche perché DeLite adesso non te lo vendono. A giugno è più probabile che te lo vendano. Io faccio l'esempio di DeLite, ma potrei fare tutti gli esempi dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che la Juve non può neanche rimanere con tre centrali, perché comunque Bonucci, Chiellini e Benatia, io su Barzagli non faccio molto affidamento. Cioè, scusate, Rugani, io su Barzagli non faccio affidamento, quindi insomma ti troveresti tre giocatori per due ruoli, sperando che nessuno venga a mano a freddore. E a quel punto lì, credo che la Juve voglia andare sull'usato sicuro. L'usato sicuro che può portare a diversi nomi, tra cui Garai, che è sicuramente un giocatore esperto, internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. O Caceres, che comunque con la Juve ha fatto il suo, ha partecipato a diverse partite importanti, ha fatto esperienza in Champions, conosce l'ambiente, sicuramente non ha un comportamento sempre da professionista, però c'è anche da dire che è un giocatore che dovrebbe rimanere solo sei mesi. Quindi, il ragionamento che fa la Juve è fila. Caceres è quello intanto più possibile. Cosa vuol dire possibile? Vuol dire che non hai da tavolare neanche di trattativa. La Lazio se ne voleva comunque liberare. Lui aveva già manifestato l'idea di voler andare via dalla Lazio. Quindi, insomma, c'è oggettivamente poco da trattare. Lui vuole andare via, la Juve vuole prendere un difensore, basta mettersi un po' d'accordo. È facile perché lui tornerebbe a piedi a Torino e lui ha, come posso dire, voglia di tornare in una grande squadra, una squadra che lo compete per vincere, mettiamola così, e come tamponatore credo che sia un giocatore giusto, nel senso che è un giocatore che ti serve, come ho detto, in questi sei mesi per tamponare e nell'emergenza entrare al posto del quarto difensore, mettiamola così. Come quarta scelta io credo che Caceres sia veramente un lusso. Preferivo ovviamente Benatia come terza e Rugani come quarta, però avere Caceres come quarta comunque per sei mesi, secondo me, è buona. Giustamente il ragionamento che deve fare la Juve è se che Lini non ce la fa prima di una partita di Coppa Campioni e con chi lo sostituisci? Lugani non è pronto e probabilmente non lo sarà mai. È un giocatore buono, faticatore, non è però... non ha quella classe, ha forse classe, troppa classe e poca cattiveria, quindi oggettivamente non è, secondo me, un giocatore da Juve. E spesso ha fallito nelle partite che contavano. Mi viene in mente San Siro, per rendere l'idea, dove i due gol che la Juve prende con l'Inter sono suoi e quindi serve qualcuno che abbia, appunto, l'esperienza per affrontare certe partite. Ora, ho sentito dire anche adattiamo Emre Can, sì, puoi anche adattare Emre Can, però comunque tu vai a giocare una partita con un giocatore non di ruolo e non so quanto ti convenga, non so quanto ti convenga. Puoi adattare chiunque, io posso anche prendere Manzucchi, visto che uno di quelli viene adattato ovunque, lo metterò in difesa centrale, e sono sicuro che farebbe bene, però comunque non è il suo ruolo e tu hai bisogno comunque di coprire con uno che ci sia nel ruolo. Tu quattro centrali li devi avere. Poi, puoi gestire o meno gli adattamenti eventualmente, ma quei quattro li li devi avere. E quindi, appunto, sono convinto, alla fine della buona scelta, se dovesse essere Caceres, preferirei Garai, però, visto la difficoltà della trattativa, io credo che Martin Caceres sia, oggettivamente il giocatore migliore da prendere in questo momento. Soprattutto, appunto, proprio per la povertà di mercato che c'è in questo periodo. Cioè, diciamo, Benatia ha fatto di tutto per mettere in difficoltà la Juventus, comportandosi, secondo me, non proprio bene. Però, alla fine, credo che sia un problema suo. Se molli la Juve in un'età ancora dove puoi giocare a buoni livelli per altri anni e vai a giocare in Qatar, per carità, è quello che vuoi, però io non ci perdo neanche tempo troppo a discutere. Se tu mi dici che vuoi lasciare la Juve per l'Arsano, il Chelsea, il Paris Saint-Germain, il Monaco, o comunque una scuola europea che vuole far bene, che ti convince il progetto di due o tre anni, dici, vabbè, oh, mollo la Juve ma vado in una realtà comunque abbastanza importante. Mollare la Juve o il Milan o l'Inter o la Roma o il Paris Saint-Germain o il Manchester United per andare in Qatar, o in Cina per dirlo, ma in Qatar soprattutto, almeno in Cina il campionato è un pochettino più ripreso, ma in Qatar è segno proprio che qualcosa in te non è chiaro, forse devi un po' capire che cosa vuoi fare da grande, ecco, Benatia purtroppo viene a mancare ogni tanto, gli prende lo schizzo e quello è il grande difetto di Benatia e mi dispiace perché è un giocatore, è un bravo ragazzo ed è un giocatore eccezionale, però quando gli prende gli prende lo schizzo non lo riesci più a tenere, questo è il suo grande difetto che gli ha impedito secondo me di diventare uno dei più forti centrali d'Europa perché ce l'aveva tutte le carte in regola per poterlo diventare insomma. Ragazzi, quindi il mio pensiero è chiaro, via Benatia, secondo me serve uno di esperienza, preferirei Garai, ma in caso di arrivo di Caceres sarei comunque contento e tranquillo perché Caceres comunque ha esperienza e in una difesa collaudata come quella della Juve in una squadra collaudata come la Juve sono sicuro che tapperà i buchi che il turnover dovrà lasciare. Quindi sono contento se deve essere VAR Caceres e sono tranquillo. A questo punto non c'è niente altro da aggiungermi, non resta che salutarvi. Tra l'appuntamento nei prossimi video domani ricordatevi il post partita di Sampdoria Juve primavera e il post partita di Orobica Calcio Bergamo Juventus Women. In più vi aggiungo che domenica il post partita dell'Under 23 andrà ovviamente sul tubo dopo la mezzanotte cioè dopo quello della prima squadra perché giocano quasi in contemporanea e mi è impossibile cioè non giocano in contemporanea riuscirò a vederle entrambe ma finita una inizia l'altra non riesco oggettivamente a fare tutto ecco quindi se riuscirò lo farò dopo se no non lo so comunque dovrei farlo dopo a me non resta che salutarvi a questo punto e darvi appuntamento con i prossimi video ciao